Sono in una postazione un po' strana, mi si vede poco la faccia, ma è perché il tramonto di questo Giovedì Santo è particolarmente bello. Inizia il trilo pasquale e sulla storia di Gesù scende il buio, così come il sole sta tramontando. Un buio che durerà ore, alcuni giorni, ma che non sarà eterno. Un sole che sorge il mattino di Pasqua, che diventa il segno di quell'alba nuova che porta la risurrezione di Gesù. Allora in un periodo, in un momento così, dove abbiamo forse attraversato tanti momenti bui, forse stiamo attraversando un unico momento buio, gli auguri per una buona Pasqua vogliono essere l'invito ad aspettare l'alba del Signore Risorto che sorge su ciascuno di noi. L'alba di un giorno che ci ridona vita, gioia e speranza. Dopo il mio breve augurio voglio lasciarvi una serie di auguri, di piccoli messaggi che alcuni adolescenti e loro educatori hanno voluto rivolgere per questa Pasqua così particolare. Quante volte ci ho pensato su, il mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani e mille braccia per il livello domani. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore. Perché il cuore di già un altro Dio è uguale a mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Ma che senso ha ascoltare e non cambiare. Nel mondo che vorrei avrebbe mille amore. Nel mondo che vorrei avrebbe tutti un cuore, il mondo che vorrei si chiamerebbe amore. Senti forti le mie mani e sentirai il mondo che io vorrei. Il mondo che vorrei. Ciao a tutti. Io sono Arianna. Ciao a tutti capriolesi. Ed eccoci qua a festeggiare la Pasqua dietro all'oschera. Quest'anno non festeggeremo la Pasqua come vogliamo e come abbiamo sempre fatto, perché purtroppo questo virus non ce lo permette. però nonostante tutto noi abbiamo pensato di fare gli auguri a tutti voi tramite un video. Sicuramente non è bello come scambiarsi di persona, vedersi, abbracciarsi, scambiare anche due parole. Però purtroppo dobbiamo adattarci. Auguri di buona Pasqua e spero di vedervi presto. Un bacio. Volevo fare tantissimi auguri di buona Pasqua e ci tenevo a dire che non vedo l'ora che finisca tutto questo per poter ritornare a passare il mio tempo con tutti voi. Le sorprese nelle uova, la primavera e i suoi fiori animano la nostra Pasqua di mille colori. Ma il regalo più importante ce l'ha fatto il nostro Signore, donando pace e sorrisi a tutte le persone. Anche se ci troviamo in una brutta situazione, facciamo il possibile per riscaldare il nostro cuore. Buona Pasqua a tutti. Tantissimi auguri di buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Purtroppo quest'anno va così. Buona Pasqua da me e il mio cane. Ciao bacio. Noi ma. Questi auguri a buona Pasqua e di buona festa a tutti voi. Tanti auguri di buona Pasqua a tutti. Quest'anno dobbiamo essere forti per superare questo momento così difficile. Tantissimi auguri. Baci. Volevo l'occasione per fare una buona Pasqua. Mentre aspettiamo il momento di uscire, abbracciarci tutti e rincontrarci, auguro a tutti voi una buona Pasqua. Un auguro di buona Pasqua a tutti i miei amici dell'oratorio. So che la quarantena non è una delle istituzioni migliori perché comunque è un po' noioso. Prima o poi le serie tv di Netflix finiranno, però vabbè. E devo ammettere che la mascherina c'ha il suo tocco di stile. In questo periodo è molto difficile, non si riesce a farsi gli auguri di persona, a stringersi la mano, a darsi anche un abbraccio, qualche bacio. In ogni caso dobbiamo stringere i denti e tenere duro. Basta aspettare e rispettare le regole. Mi raccomando, seri, serietà e felicità. Anche se non è facile questo incubo del coronavirus, però un po' di felicità ci accompagnerà verso la fine di questo tunnel oscuro. Vi ricordo che dobbiamo stare a casa e dobbiamo essere come una lumachina. Cioè avere molta pazienza e andare avanti pian piano, senza dimenticarci che torneremo a volare liberi e spensierati come una frafalla. Ed infine vi auguro di trascorrere questo periodo come una magnifica coccinella che dona speranza e fortuna. Poiché in un periodo come questo può solo che migliorare la situazione che stiamo vivendo. Prima o poi questa cosa finirà e quando finirà sono sicura che riusciremo a incontrarci per mangiare una pizza tutti insieme. Voglio dirvi di vedere magari questa azione non solo nel lato brutto diciamo, però possiamo vedere anche il lato positivo, ovvero per relazionare i rapporti magari con i genitori, dato che magari uscivamo spesso quindi non passavamo così tanto tempo assieme. E quindi possiamo usare questo tempo per fare qualcosa assieme. Spero che tutto questo volesca in fretta e spero di rivedervi presto, vi voglio bene. Bisogna rimandere in contatto con le persone a cui aggoliamo bene perché è vero che la distanza fa tanto, però è proprio nei momenti di difficoltà che si vedono le persone che ti stanno accanto. In questo momento di difficoltà siamo tutti più vicini anche se lontani fisicamente. Spero di tornare a rivederci presto nei nostri incontri o per quattro chiacchiere tutti insieme. Un bacione grande a tutti. E se in paese a capriolo, ritornare tu vorrai, a casa tu ora starai, felice tu sarai e riabbracciare tutti finalmente potrai. Buona Pasqua!